Sì, sì ma quanto sono belle le mie mastro, sì le mie mastro pagelle e invece no, quelle del Carlino invece no, quelle del Carlino ci fanno tutti un ciao ragazzi! Un saluto da Luca Mastrangelo direttamente qui dal mio nuovo appartamento, dal mio nuovo attico a Milano, sono nella Torre Solaria, sopra di me ci abita Ibraimovic, Ibra, Ibra, stai dietro Ibra, il sorpasso è arrivato! Qui dal mio nuovo appartamento vi ricordo prima di partire con le mastro pagelle che stasera c'è cartellino giallo, dove si vede cartellino giallo, canale 14, in Romagna più Bologna, 74 in Emilia, 99 in Veneto, per tutto il resto d'Italia diretta Facebook. Quindi a meno che non abitiate in Emilia Romagna o in Veneto, lasciate il like alla pagina Facebook di Cartellino Giallo che alle 22.30 vi parte la diretta Batman Andanovic. Batman è tornato a fare Batman, anche se Ieghi non ha dovuto fare chissà quali miracoli, si becca un 6,5 perché fa un'uscita tempestiva, tempestiva, su Lazari, e poi fa una parata che non è proprio di quelle semplicissime, su un tiro bastardino di Ciruzzo Immobile, quindi il buon Batman Andanovic si becca 6,5. Skriniar, per gli amici piedone, c'era il film di Buzz Spencer, piedone ed Egitto, piedone l'africano, noi abbiamo piedone lo sloveno, quando mette gli allettoni così, che tira fuori i piedoni, non passa nessuno. Partita perfetta di Skriniar. Io sono un po' di partite che dico, è il miglior momento di Skriniar da quando Conte è arrivato all'Inter. L'anno scorso era un giocatore impacciato, era un giocatore incerto, era un giocatore insicuro, era un giocatore che ci ha messo abbastanza, diciamoci la verità, a capire questa difesa 3, a integrarsi bene in questa difesa 3, ma adesso che si è integrato è tornato il buon vecchio Skriniar di una volta. Ieri sera non ha fatto passare le mosche. Bravo Iceman, ti meriti 7,5. L'olandese volante 6,5 contro la sua ex squadra, non si fa prendere dall'emozione, bella partita, dalle sue parti ci sono sempre Immobile e Morigi poi, e Morigi poi, che tentano di dargli fastidio, ma con la sua classe, con la sua plomb, cioè proprio con la sua tranquillità, l'olandese volante non fa passare nessuno, partita anche abbastanza tranquilla, abbastanza tranquilla. E poi, insomma, le solite chicche in impostazione che fanno di lui veramente, secondo me, uno dei veri pilastri di questa Inter. 6,5, 6,5 anche per bastoncino Findus. Il merluzzo più amato dagli interisti ha avuto spesso da fare, dalla sua parte, con qualche inserimento di un cliente come Milinkovic-Savic, non proprio il primo che passa per la strada, ma ha fatto una piega. Ma ha fatto una piega! Problemi zero, partita in tranquillity e si becca anche lui il suo 6,5. Hakimi, Marrakesh Express. 6. Diciamo che ieri forse Marrakesh Express è stato quello un po' meno convincente. Al 58esimo si mangia anche un gol, insomma arrivando un pochettino tardi al momento della conclusione, e fa una partita che è normale, che la parola normale per Hakimi non è normale. La parola normale per Hakimi non è normale, quindi quando Hakimi fa una partita normale, noi non siamo abituati e ci sembra che abbia fatto magari una partitaccia. Ieri, dico la verità, mi sento di dargli solamente 6, anche comunque la sufficienza se la porto a casa, perché il buon vecchio Marusic della Lazio contro Hakimi il suo l'ha fatto. 6. Barella, Spidipizza Barella, ieri si becca 6,5. Strano ma dirlo, è stato quello del centrocampo, pur prendendo una sufficienza piena, un 6,5 pieno, è stato quello del centrocampo che mi ha convinto un filino meno. Quasi sempre succede che lui è il migliore del centrocampo e gli altri prendono meno di lui, questa volta non è una pecca, non è una colpa, poi comunque 6,5 non è che stiamo parlando di un votaccio, si becca 6,5, parte che fa una sgropata delle sue sulla fascia e arriva sul fondo suonando subito la carica come solo lui sa fare, poi dopo una partita fatta di tanta grinta, tanta sostanza, ma ieri i suoi compagni di reparto secondo me hanno fatto anche meglio di lui. Spidipizza Barella 6,5 e veniamo a chi ha fatto meglio di lui. Al migliore in campo del centrocampo e a uno dei migliori in campo, Marcellino Panevino. Signori, Marcellino Panevino è questo, Marcellino Panevino delle volte gioca da top player, poi magari ti fa due partite che ti dispone anche un pochettino, però io non mi stancherò mai di dirlo. Finché non compri uno più forte di lui, è giusto che giochi lui. Ma la domanda è, quanto costa prendere uno più forte di lui? Ed è così facile prendere uno più forte di lui, perché Marcellino Panevino è il fosforo di questa squadra, è la testa di questa squadra. Ieri è entrato in tutti i gol dell'Inter, in tutti i gol dell'Inter o c'è lui che fa un tackle e fa la ripartenza, o c'è lui che ti lancia in contropiede, è in tutti i gol dell'Inter. Partita super, partita sontuosa di Marcellino Panevino, che si becca otto, senza se e senza ma. Altro giocatore che mi è piaciuto del centro campo, il pianista. Dite sempre che sono un po' col contagocce a dare i voti a Ericsson, il pianista ieri si becca un bel sette. Allora, non ha fatto giocate che hanno fatto venire giù San Siro, anche perché era vuoto, non ha fatto giocate che proprio hanno incendiato il gioco, robe che uno dice, madonna, però non ha sbagliato praticamente quasi niente. Giocate semplici, concrete, spesso di prima, sempre con la testa, ha perso un mezzo pallone, una mezza volta, quindi progressi, progressi, progressi per il pianista, che ieri ha giocato titolare in una partita dove io sinceramente non pensavo venisse schierato titolare e ha risposto presente. Bravo Ericsson! Veniamo alla surprise. Mocio Vileda. Mocio Vileda, sette. Oh raga, sarà un caso, ma da quando io ho fatto il video col Mocio e l'ho soprannominato Mocio Vileda, come spesso accade, quando io do addosso a qualcuno, questo si sveglia. Evidentemente guardano i miei video e dicono, ma guarda quello stronzo di Luca Mastrangelo che ha parlato male di me, adesso gli faccio un culo così. Benvenga, benvenga. Ieri partita buona di Perisic, sette. Dalla sua parte Lazari non ha fatto niente. Io quando ho visto Perisic titolare mi son detto, mmm, mmm, non son convinto, non son convinto e invece mi ha fatto ricredere. E invece mi ha fatto ricredere. Bravo Mocio Vileda in questo caso. Bravo, bella partita ieri, sette. Lukaku. Lukaku. quanto gli vogliamo dare a Lukaku? Meno di nove. Ibra! Ibra! Io a Lukaku gli do nove. Domenica viene, ti fa un culo così. Domenica, ti fa un culo così. Ti fa. Nove. Gli ho dato nove, gli ho dato a Lukaku. Cioè ragazzi, due gol e un assist e il terzo gol ragazzi. Cioè il gol, del gol di Lautaro. È partito come un treno in corsa, il povero Parolo. Il povero Parolo si è trovato investito da questo treno. Cioè come un treno quando prende su una macchina nelle rotaie. Bada bababim, boom, ha preso su Baracca e Burattini e c'è gente che dice eh ma non segna nelle partite importanti. Perché quella di ei non è una partita importante. La Lazio non è una grande squadra? Non è una big del nostro campionato? Non mi pare che Lukaku non segni nelle partite importanti. Non ha segnato alla Juve, va bene. Però visto che quelli della Juve fanno le pulci a Lukaku e gli contano i gol, contate i gol del vostro Alvaro Soler. Contate i gol del vostro Alvaro Soler che Alvaro Soler ha fatto neanche un terzo dei gol di Lukaku. Contate i gol di Alvaro Soler. Lukaku, 9. Lautaro, 7. È tornato il Toro. Buona partita. Non grandissima ma buona partita. Il 7 se lo merita tutto. Voi direte eh ma il gol è facile. È solo da appoggiare in porta. Però fa un'altra cosa importante. E fa un'altra cosa determinante. si guadagna il rigore che sblocca la partita. Quindi rigore guadagnato chi ha sbloccato la partita. Gol che chiude la questione. Anche se era facile bisogna comunque sempre esserci. Lautaro torna al gol. L'avevo detto in un video con Gianluca Rossi in settimana. Sul canale di Gianluca Rossi c'è un video che abbiamo fatto insieme. Avevamo scommesso sul ritorno al gol di Lautaro e Lautaro è ritornato al gol. Voto 7. Senza voto D'Ambrosio, Sanchez, Pinamonti e Darmian che hanno giocato pochi scampoli. Gagliardini voto 6. È entrato e ha dato una mano. Sembra niente ma vi dico la verità la prestazione di Gagliardini è stata incoraggiante. Le ultime uscite di Gagliardini secondo me sono state incoraggianti. Siccome che abbiamo Vidal che ha dei problemi e mi hanno detto che sono problemi che potrebbero venire ciclicamente fuori perché lui ha questi problemi al ginocchio. avere un Gagliardini che in questi casi risponde presente è importante. Quindi Gagliardini 6 bravo mi sei piaciuto hai dato una mano anche te. Conte 8. Ragazzi sapete che io quando gli devo dare addosso sono il primo però davanti all'evidenza non ci si può mettere lì a fare le pulci. Ema però Ema però Ema qui Ema là. Ieri era una partita che temevo tantissimo era un esame di maturità quando nel video dopo le sconfitte di Juve e Milan avevo detto che se non piaceva la parola obbligo per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto e dell'Inter Conte è uno di quelli a cui non piace sentirsi dire che l'Inter è obbligata a vincere lo Scudetto io ho detto va bene togliamo la parola obbligo se non piace diciamo che abbiamo un'occasione più unica che rara sfruttiamola ieri l'Inter l'ha sfruttata non abbiamo ancora fatto niente domenica c'è il derby ma con la testa di ieri sono sicuro che l'Inter potrà arrivare in questa posizione di classifica in fondo fino alla fine quindi bravo Conte ieri hai messo in campo la squadra bene mi è piaciuta concreta in zaghe ha parlato di dominio Lazio sì la Lazio in certi frangenti controllava il gioco aveva più gioco dell'Inter però ieri l'Inter è stata l'Inter la squadra che riparte in rimessa concreta veloce cinica e per fare tre gol non ce ne siamo dovuti mangiare 50 come facciamo spesso quindi bravo Conte questo gioco ti meriti 8 iscrivetevi al canale YouTube clic 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 seguitemi su Instagram clic 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 like alla pagina Facebook clic 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 e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare Ibra ci vediamo domenica ciao grazie a tutti grazie a tutti